cartoni molto animati nel pomeriggio di Rai 2 arrivano dal Giappone sono già un mito mondiale diventeranno i vostri migliori amici sono Digimon dal 4 settembre ogni pomeriggio Rai 2 con Apriti Quaxima premia F e tanti altri regali raccogli punti pigna Quaxima Good morning, good morning, we've talked the whole night through, good morning, good morning to you Good morning, good morning, it's great to stay up late, good morning, good morning to you When the band began to play, the stars were shining bright Il soffice piacere del mattino, saccottini mulino bianco, mancia sano e vivi meglio Sorbenzo che strabiglia! Oggi l'assorbenza Lines è la più grande che ci sia Un solo Lines assorbe una bottiglia, l'assorbe tutta e torna asciutto È Lines che assorbe di più! Lines, la gioia dell'asciutto No push, no, 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 no 7, the other side of you Il vero cacciucco, oggi si pesca con Buitoni, direttamente dal freezer Una zuppa di pesce a regola d'arte, è pronta in pochi minuti, giusto il tempo per metterci i crostini di pane Cacciucco Buitoni, dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto cacciucco, eh? Accidenti! Io mi chiamo Maya, e tu? Buongiorno piccola Maya È tornata la Pemaia! Vai, silenzio! Sì, da oggi la Pemaia è in videocassette La prima uscita in edicola ha sole 4.900 lire Maya! Solo dal mais più ricco di sole Kellogg's Cornflakes Oggi anche con un velo di cioccolato O con croccanti noccioline Per dare ancora più gusto al sole di ogni giorno Kellogg's Cornflakes Il sole di ogni giorno Sui bianchi so cosa fare, ma colorati chi mi aiuta con l'igiene? Candeggina, acce gentile Nel bucato sporco possono esserci problemi di igiene Ace gentile rimuove lo sporco e aiuta l'igiene Ace gentile, aiuta l'igiene, ama i colori Quando in acqua Rocchetta si uniscono benefico tè verde e fiori profumati Nasce Elisir di Rocchetta tè verde con gelsomino Il piacere, senza perdere la virtù Elisir di Rocchetta Deliziose virtù di natura nell'acqua che depura A grande richiesta su Rai2 Si resta tra amici con Frenzy Dal 4 settembre ogni giorno Alle 18.35 Su Rai2 A grande richiesta su Rai2